Una voce unica ed inconfondibile è quella di Alma Manera. Alma, ma tu sei qui in veste critica questa sera o come amica di Oscar? Sicuramente chi fa musica, chi fa arte, si può solo sostenere e appoggiare. E' un, diciamo, essere pionieri oggi e portare cultura della vita attraverso la musica, non si può non sostenerlo. Senti, tu sei abituata a cantare in contesti che non sono soltanto nazionali, ma che varcano molto spesso anche i confini. Ti ho ascoltata quale ambasciatrice, anche per i calabresi nel mondo del C3, ho avuto questo piacere immenso. Ecco, che cosa ti aspetti da questa serata? Perché ripercorreremo una parte di storia della musica italiana. Quello che ci si aspetta sempre, credo per chi sposa questo mestiere, che forse è troppo volgare chiamarlo mestiere perché è una vocazione per quanto mi riguarda, è emozionarsi. Quindi l'aspettativa è di emozionarsi. La cosa che faccio quando vado a teatro, quando vado al cinema, è veramente ricercare il talento e quindi l'emozione di un momento.